il generale a capo del covi e dal primo aprile cambierà la gestione della pandemia il presidente del consiglio mario draghi pianifica l'uscita dallo stato di emergenza e dribbla le domande sulla corsa al colle al termine del consiglio dei ministri che proroga per l'ultima volta fino al 31 marzo lo stato di emergenza il capo del governo decide di non parlare con la stampa oggi alle 9 sarà prima alla camera e poi al senato per le comunicazioni sul consiglio europeo del 16 dicembre il premier evita svicola il piano di chiudere l'emergenza il 31 dicembre 2021 e dedicarsi alla scalata al quirinale si scontra con le richieste dei partiti e dei governatori di prorogare il regime eccezionale dopo il passo indietro il premier fissa però un paletto il primo aprile l'italia deve uscire dallo stato di emergenza anche perché ora servirà una legge per modificare il periodo massimo di emergenza oggi fissato a 24 mesi oltre il 31 marzo e non si esclude anzi pare che draghi l'abbia anticipato già ieri in occasione della riunione di governo la convocazione della cabina di regia appena incassato il via libera la manovra per decidere la linea del premier è chiara chiudere il 31 marzo l'emergenza e trasferire in capo alla protezione civile i poteri del commissariato per l'emergenza guidato da generale francesco paolo figliuolo nominato ieri alla guida del comando operativo di vertice interforze covi nel decreto licenziato dal cdm c'è già la via d'uscita che autorizza il passaggio delle funzioni alla protezione civile è previsto il potere di adottare ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del coronavirus tradotto la possibilità dunque di poter continuare anche senza regime eccezionale le attività di contenimento della pandemia con gli strumenti a disposizione della protezione civile è la norma che anticipa l'uscita al netto di una legge approvata dal parlamento dal regime eccezionale dal primo aprile 2022 in consiglio dei ministri eccezione per i malumori in casa leghista ai partiti erano tutti schierati per il sì alla proroga forse il più scettico era stato proprio draghi che ora deve ricalcolare la road map per il quirinale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti